Ciao a tutti, buon pranzo per chi ha già mangiato, buon caffè invece. Purtroppo ennesimo malore che non dà spiegazioni. È successo a Parigi un infarto ad un famoso rapper che vacilla, cerca di raggiungere le quinte e poi cade per terra per infarto e muore a solo in 41 anni. Attendo che sia collegata un po' di gente, chiediamo la verità, vogliamo la verità su queste morti improvvise, perché non è più normale, non è più normale. Continuano a far finta di nulla, i potenti continuano a far finta di nulla quando la gente intorno a noi cade per terra e muore. Sta succedendo purtroppo in tutto il mondo. Un rapper famoso, Mika Ben, muore sul palco durante il concerto a Parigi. Ci sono le immagini amatoriali che non vi faccio vedere per ovvi motivi. Però vi metterò il link, Rai News l'ha titolato, stanno titolando tutti i quotidiani a livello mondiale, le immagini stanno facendo il giro del mondo. Il musicista haitiano Mika Ben al secolo Michael Benjamin è morto sul palco durante il concerto Reunion di Parigi. Mika ha avuto un arresto cardiaco, è morto solo subito dopo, nonostante i soccorsi. 41 anni, 20 anni di carriera haitiano, era diventato famoso in patria all'estero nei primi anni 2000 con il brano O'Paty. Benjamin era figlio d'arte, suo padre Lionel Benjamin è affettuosamente conosciuto come il Babbo Natale haitiano per la sua popolare canzone di Natale. Vi metterò i link di Rai News. Non possono più i media internazionali far finta di nulla perché stanno crollando tutti i giorni sul palco. Questo a 41 anni è crollato di infarto, è caduto per un infarto. Una cosa veramente, veramente, veramente tragica. E il dubbio è lecito, devono dirci la verità, che cazzo hanno fatto, devono dirci la verità, cosa sta succedendo intorno a noi. Scusate la parolaccia, però mi scappa. Non è possibile, non è possibile che succedano queste cose. Io a memoria non me lo ricordo così tanto. Tutti i giorni, tutti i giorni, o un artista, uno sportivo, un personaggio VIP, tutti i giorni dall'operaio al VIP non c'è distinzione. Stanno morendo in troppi e in tanti. E purtroppo fanno, io non capisco chi, io non capisco quelli che non capiscono. Quelli che fanno finta di nulla, quelli che dicono no ma non c'è niente, non è vero, succedeva sempre. Sì, succedeva sempre che dei quarantenni cantanti tutti i giorni sul palco o in un campo da calcio cadano per terra per infarto e muoiono di colpo. Succedeva sempre, ma a chi lo raccontate? A chi volete raccontare? E cambio di stagione forse? Troppo caldo? Troppo freddo? Cambio di stagione? Cioè veramente, per loro sono tutte notizie false, come dice Maria Di Stefano. Ed è la RAI, guardate, vi faccio vedere per non raccontarvi bugie. Questa è la RAI, RAI News, guardate, guardate il titolo RAI News, il rapper Mika Ben muore sul palco durante il concerto a Parigi, le immagini amatoriali. Qua ci sono le immagini, guardate, ci sono le immagini, non vi faccio vedere il punto dove questo è il concerto, questo è il suo concerto sul palco. Sto però prima della scena perché è una scena che non voglio far vedere, soprattutto per i più piccoli. E qua c'è lui che canta tranquillamente, guardate, sta cantando tranquillamente sul palco, poi di colpo, come vedete, canta, alza le mani, fa alzare le mani a tutti. Per ora qua è tutto normale, tutto assolutamente normale. Una cosa vergognosa, ragazzi, una cosa vergognosa. Era giovane, 41 anni, 41 anni. E le tv continuano a fare campagna promozionale, la cosa che mi fa incazzare è questo. Robby in Molise, ragazza di 14 anni, morese cerebrale. Attenzione, immagini, questo è il momento, il momento che non vi faccio vedere, questo è il momento. Giro la telecamera perché è impiettoso. Non l'ho fatto vedere, quindi non c'è nulla di crudo. Però in quel momento lì lui cade per terra ed è morto. Una cosa veramente straziante. Preghiamo per la sua famiglia e preghiamo per quello che sta succedendo intorno a noi. Perché è veramente assurdo. E io voglio, sono due anni, un anno e mezzo, che voglio tirare fuori la verità e dire la verità. E che cercano di nascondere. E adesso viene fuori che avevamo ragione. Iniziano a dirlo, iniziano a chiedere anche a livello europeo delle commissioni di inchiesta. Intanto per capire i soldi, i contratti come li hanno fatti. Questo lo vorremmo capire. Vorremmo capirlo. Ursula von der Leyen insieme a Pfizer. Sono spariti gli sms. Vogliamo capire i contratti. Sono stati tutti indagati. Dalle ultime notizie sono stati tutti indagati. Ed è una cosa vergognosa quello che sta succedendo intorno a noi. Non si può far finta di nulla. Un altro artista che se ne va 41 anni per infarto. Durante il concerto cade e muore. Non ditemi che è tutto normale. Perché non è tutto normale. A parlare non serve niente se avranno i fatti. Ho capito. I fatti, commissione di inchiesta. Si capirà la motivazione. Bisogna assolutamente spronare la legge ad aprire delle commissioni di inchiesta. E andare a capire se ci sono colpevoli e perché. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Preghiamo per la famiglia di questo artista. Mi dispiace.